Si sono uniti insieme sei comuni per cambiare volto alla fascia costiera a sud di Salerno. La giunta comunale di Ponte Cagnano ha preso atto del programma di sviluppo urbanistico, territoriale e turistico dei comuni di Salerno, sia Battipaglia, Eboli, Capaccio, Pesto, Magropoli e Ponte Cagnano. Il progetto è ambizioso e se realizzato potrebbe finalmente dare un volto nuovo per rilanciare la litoranea. L'incuria e i disagi del presente potrebbero lasciare il posto alla riqualificazione del corridoio costiero che va da Salerno ad Agropoli con opportuni e necessari interventi di natura infrastrutturale, ambientale e di servizi. Un'iniziativa partita nel 2015 grazie all'interessamento dei presidenti dei distretti turistici di Sele Picentini di Viera Salernitana e Consorzio Lidi di Pestum e che da oggi è stenta a decollare a causa di una burocrazia che molto spesso non è di aiuto a chi vuole investire su questo territorio. Nella proposta di partenariato è stato stabilito di definire un programma condiviso di pianificazione territoriale. Insomma, tutti uniti per la nuova fascia costiera.